Albano e la mamma, il ritorno di Romina Power la rende felice Albano Carrisi parla del rapporto particolare con Donna Yolanda, sua mamma, in una intervista esclusiva al settimanale Chi. Diretto da Alfonso Signorini e ne dicola da domani, mercoledì 30 maggio 2018. La storia della madre è diventata anche un film documentario intitolato Madre Mia, che andrà in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno. Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia dItalia. Alla sua età è ancora inarrestabile e pensa che senza i suoi piatti io posso deperire. Albano e Romina Power, la gioia di mamma Yolanda. Albano parla anche delle discussioni del passato, dovute alla storia d'amore con Romina Power. All'inizio non era tanto d'accordo che la sposassi, poi però l'ha adottata come se fosse una figlia. Quando abbiamo divorziato ha sofferto molto, ma ora è felice che abbiamo riallacciato i rapporti. e poi sognava per me una vita col posto fisso, magari da insegnante, ma quando ha visto che ce l'avevo fatta ha capito di aver fatto bene a lasciarmi inseguire i miei sogni. Grazie a tutti!